Ciao a tutti e benvenuti su Macerix Tutorial. Ho lanciato questo sondaggio la settimana scorsa, come potete vedere, e ha vinto come attivo il 2FA con l'app Authenticator. Alla mia domanda, quale video vorresti vedere? Vediamo insieme come attivare il 2FA tramite l'applicazione Authenticator. Ricordiamoci che significa 2FA, in inglese True Factory Authentication, cioè autenticazione a due fattori. Perché? A che cosa serve questo 2FA? Innanzitutto serve per mettere in sicurezza il vostro account, serve per fare i regali, serve per partecipare ad alcune competizioni, tipo la Coppa Hype, che dovrebbe ancora oggi regalare il balletto Boogie Down. Quello lo vediamo dopo. Allora, come primo passo andiamo dallo smartphone, per chi ha l'iPhone sull'Apple Store, per chi ha l'Android sul Play Store. Bene, entrati sul Play Store, scriviamo nel campo di ricerca Authenticator. Vi darà una serie di Authenticator disponibili. Noi scegliamo quello di Google. Eccolo qua, Google Authenticator. Lo installiamo. Una volta installato lo apriamo. Inizia. E ci fermiamo qua. Ok? Adesso ci posizioniamo sul computer. Bene, ora che ci siamo spostati sul PC, dovete accedere su epicgames.com. Qui in alto, entrate con l'account con cui vi siete registrati. Accedi con Epic Games. Bene, io ho creato un account di proposito per farvi visualizzare come attivare il 2FA appunto con l'app Authenticator. L'ho chiamato proprio Macharix come attivo 2FA. Beh, naturalmente voi utilizzerete qui il vostro account con Epic Games. Fate accedi ora. Quindi fate la vostra autenticazione. Ok, una volta inserite appunto le vostre credenziali dell'account di Epic Games, fate accedi ora. Bene, una volta entrati, clicchiamo su account. E una volta entrati su account, andiamo a cercare password e sicurezza. Scendiamo in basso e troviamo autenticazione a due fattori. Ok? L'autenticazione a due fattori, il 2FA può essere utilizzata per aiutarti a proteggere il tuo account. Come vi dicevo anche prima, da accessi non autorizzati. Quindi se per assurdo qualche hacker vuole sottrarvi il vostro account di Fortnite con tutto il vostro bellissimo armadietto, con i vostri oggetti, le vostre skin e tutto, se c'è il 2FA è impossibile che ve lo hackerano e ve lo sottraggono appunto. Tramite la richiesta di un codice supplementare in fase di registrazione. Bene, quindi facciamo app autenticator di terze parti, perché è quello che abbiamo fatto prima tramite smartphone. Abbiamo scaricato il Google Autenticator. Facciamo attiva, clicchiamo qui. Vedete? Adesso vi dirà attiva l'app autenticator, scarica un app autenticator, fatto. Scansione il codice QR. Bene, ci posizioniamo ora sullo smartphone. Ora siamo sullo smartphone. Clicchiamo appunto su scansione on codice QR. Eccolo. Scansioniamo. E qui, dallo smartphone, vedete? Ha riconosciuto Epic Games, Macerix, 2FA, Chioccere, eccetera, eccetera. Aggiungi account. Adesso, come potete vedere, sull'applicazione autenticator, qui presente sullo smartphone appunto, su Google Autenticator, troviamo Epic Games e 6 numeri. Questi 6 numeri non sono sempre gli stessi. C'è un conto alla rovescia che dura 30 secondi. Questo per farvi capire cosa? Che questi 6 numeri ogni 30 secondi sono nuovi. E quindi è impossibile che vi possano sottrarre appunto il vostro account con il 2FA. Bene, adesso ritorniamo sul computer. Bene, ora continuiamo qui sul PC. Come potete vedere, dopo aver effettuato la scansione del codice QR, clicchiamo su Accedi con il codice di sicurezza. Codice di sicurezza. Andiamo a leggere sullo smartphone qual è il codice attuale in questo momento. Quei 6 numeri che scorrono. Ok, li inseriamo, inseriamo i 6 numeri che visualizziamo sul Google Autenticator presenti sullo smartphone e facciamo attiva App Autenticator abilitata. Ora siamo pronti per utilizzare con il nostro account la 2FA. Ora come ultima fase andiamo a verificare sulla Play se è correttamente attivo. Bene, ora che siamo sulla Play, all'interno del nostro profilo andiamo in alto a destra cliccando su Impostazioni. Da Impostazioni clicchiamo su Gestione account, Informazioni sull'account, Sicurezza. Clicchiamo su Verifica in due passaggi. Ora clicchiamo su App di autenticazione che abbiamo abilitato prima sul PC. E andiamo a scansionare. Qui inseriamo il codice che abbiamo letto sulla Potenticator, quindi 127.8.5.2. E' quel codice che viene generato ogni 30 secondi. E facciamo attiva. Selezioniamo Ho annotato i codici di backup. E facciamo ok. No. Come potete vedere adesso, Verifica in due passaggi è attivo. Spegniamo la Play, la riaccendiamo e controlliamo che sia rimasto correttamente attivo. Bene, ora che abbiamo riavviato la Play, controlliamo per scrupolo se il 2FA è rimasto correttamente abilitato. Come prima, Impostazioni, Gestione account, Informazioni sull'account, Sicurezza. Eccolo qua. Verifica in due passaggi è rimasto attivo. Adesso per curiosità, controlliamo se ancora Fortnite ci regala il balletto Boogie Down a seguito attivazione appunto del 2FA. Ok, controlliamo se Boogie Down il balletto è ancora in omaggio. Eccolo qua. Spero che il video sia utile. Lasciate un like, condividetelo e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Machadix. Ciao a tutti.